A causa della pioggia e della fitta nebbia, che in montagna talvolta gioca dei brutti scherzi, l'edizione 2013 del concerto di Ferragosto al Pian del Re è iniziata con oltre un'ora di ritardo. Gli spartiti le sedie dell'orchestra erano bagnati e difficilmente utilizzabili. La RAI ha trasmesso fino ad un certo punto le immagini delle prove, per poi interrompere la diretta prima delle 14, quando ancora il concerto non era iniziato. L'orchestra Bruni e i polifonici del Marchesato di Saluzzo hanno poi iniziato a suonare e, al termine dello spettacolo, il pubblico, comunque numeroso nonostante il maltempo che ha caratterizzato la giornata, è potuto ritornare a valle. Mercoledì 14 agosto, Don Franco Giulia, il parroco arrestato a Losana nell'agosto del 2012 perché accusato di numerosi reati, ma anche coinvolto recentemente in un caso di ricettazione, ha lasciato con la madre la frazione Mirolio di Frabosa Sottana per raggiungere il monastero di San Biagio di Mondovì. Nel frattempo la curia monregalese sta valutando se sospenderlo o meno a Divinis. Dal 16 al 23 agosto si svolgerà a Cortemiglia una settimana ricca di eventi neogastronomici, folcloristici e culturali che ruotano intorno al prodotto regina dell'Altalanga, la nocciola Piemonte IGP. La sagra della nocciola si apre il 16 agosto con il concerto inaugurale, dalla musica classica al jazz, passando per sinestesie di musica, colori e letteratura, il tutto arricchito da qualche anno a questa parte con una ricca degustazione a base di prodotti tipici. Da sabato 17 a domenica 25 agosto si svolgerà a Farigliano la festa del Bonvin, la sagra che celebra il vino dolcetto. La Proloco, organizzatrice dell'evento, si propone di promuovere e far conoscere la produzione dei viticoltori fariglianesi tramite il classico allestimento del salotto del vino. Il Principe Alberto di Monaco sarà cittadino onorario di Paroldo. L'onoreficenza sarà consegnata in municipio a Paroldo lunedì 19 agosto 2013, in occasione della visita del Principe al piccolo comune di Langa. Alberto di Monaco parteciperà alla quarantesima edizione del concerto di musica alta Langa, che vede ogni anno protagonisti, musicisti e monegaschi. L'incontro triangolare di calcio Città di Mondovì, che ha avuto luogo la sera di mercoledì 14 agosto 2013, è stato vinto dal Torino, battute sia l'Albese che la Virtus Mondovì. All'incontro ha fatto seguito la presentazione ufficiale della squadra del Torino durante la mostra dell'artigianato. L'ultimo allenamento della formazione Granata a Mondovì è previsto alle 9.30 di venerdì 16 agosto, a porte aperte.